Anche questa volta voglio proporti il ripasso di due complementi insieme, il complemento di modo e il complemento di mezzo. Perché insieme? Perché anche in questo caso, come già avevamo visto per il complemento di causa e quello di fine, occorre stare un pochino attenti perché è facile in certe circostanze, in certe frasi, confonderli. Ma partiamo subito da una frase di esempio. Siamo arrivati in treno. Procediamo subito con l'analisi. Siamo arrivati è il nostro predicato verbale. Chi compie l'azione di arrivare noi, quindi soggetto sottointeso, in treno. La domanda a cui risponde questa espressione, in treno, è questa. Con quale mezzo? Per mezzo di cosa? probabilmente ti sarà capitato di chiederti spontaneamente in che modo siamo arrivati. E sarebbe stato un errore. Ecco perché li ho messi insieme complementi di modo e complementi di mezzo. Il treno, prova a riflettere, non è una modalità, non è un modo per fare qualcosa. Il treno è un mezzo, uno strumento. Infatti questo è un complemento di mezzo. Quindi il complemento di mezzo è quel complemento che indica lo strumento, il mezzo attraverso cui si compie l'azione che ci viene indicata dal verbo. Questo mezzo può essere un oggetto, può anche essere un essere vivente. Se io scrivo il sito della scuola è sempre aggiornato grazie a Giovanni e procedo all'analisi. Il sito è il soggetto di è aggiornato, che è il nostro predicato verbale, aggiornare, della scuola complemento di specificazione, sempre è un complemento di tempo determinato, grazie a Giovanni. Per mezzo di chi il sito della scuola è sempre tenuto aggiornato, grazie a Giovanni che quindi diventa complemento di mezzo. Allora in questo caso il treno avevamo un oggetto, in questo caso abbiamo una persona, però in entrambi i casi noi stiamo parlando dello strumento che ci permette di realizzare ciò che viene detto nel verbo. attenzione perché qui potrebbe esserci una confusione che è bene affrontare da subito. Allora se io scrivo Pino ha comprato una barca a vela, procediamo. Ha comprato è il nostro predicato verbale, Pino è il soggetto, Pino ha comprato degli occhiali da sole, sembra uguale alla precedente. Quindi attenzione, in questo caso è un complemento di mezzo. Con cosa possiamo confonderlo? Possiamo confonderlo con il complemento di fine, ti ricordi? Proviamo questa frase. Pino ha comprato degli occhiali da sole, sembra uguale alla precedente, sembra uguale alla precedente. Attenzione, da sole però il sole non è il mezzo per cui gli occhiali fanno qualcosa, il sole è il fine per cui gli occhiali sono stati costruiti. Ti ricordi? Avevamo detto gli occhiali da sole sono costruiti in un modo particolare proprio per riparare dal sole. Quindi in questo caso noi abbiamo il complemento di fine. Allora ancora una volta qual è la regola? La regola è sempre quella di prima di tutto leggere attentissimamente la frase completa perché è solo la lettura della frase completa che ti dà il significato di ciò che stai leggendo e poi devi farti le domande giuste. Ok, passiamo adesso all'altro complemento. Siamo usciti in silenzio. Siamo usciti noi in silenzio. In che modo siamo usciti? In silenzio. Allora questo è un complemento di modo. Allora vedi che è un complemento di modo? Posso capirlo anche perché io potrei trasformare in silenzio proprio in un avverbio di modo. Cioè io potrei scrivere potrei scrivere silenziosamente. Quindi trasformare in silenzio in un avverbio di modo. Questo è una certezza in più che sto analizzando nel modo giusto. Vediamo la frase sotto. Ho cucinato un risotto alla milanese. Anche qui, anche questo è un modo. È un modo per cucinare il risotto. Quindi anche questo sarà un complemento di modo. Allora proviamo adesso a vedere due frasi che si somigliano e che invece ti fanno capire la differenza tra questi due complementi. Prendiamo ad esempio queste due frasi. Ho affrontato il caso con intelligenza. Ho risolto il caso con intelligenza. Ha una lettura molto veloce. Sembrano due frasi che stanno dicendo la stessa cosa. In realtà non è proprio così. E la differenza la fa proprio il predicato. Partiamo dalla prima. Ho affrontato il caso con intelligenza. Con intelligenza mi sta indicando il modo in cui ho affrontato il caso. In che modo ho affrontato il caso? L'ho affrontato con intelligenza. Infatti io potrei addirittura sostituire e scrivere intelligentemente avverbio di modo. Passiamo alla frase sotto. Se io dico ho risolto il caso con intelligenza. La domanda è diversa. La domanda è... Grazie a cosa ho risolto il caso? Per mezzo di che cosa? Cioè qual è stato il mezzo, lo strumento che mi ha permesso di risolvere il caso? Con intelligenza. Ma in questo caso io ho complemento di mezzo. Mentre nella frase precedente avevo complemento di modo. Quindi è vero che è possibile una confusione, ma è possibile solo se agisci in fretta e se non ragioni. Quindi il modo indica una modalità, non è qualcosa di concreto, non è uno strumento. Il mezzo invece al contrario è qualcosa che ti permette di fare qualcos'altro. E visto che stiamo parlando di confusione, vediamo un'altra situazione in cui potresti confonderti. Ti preparo altre due frasi. Se mi ascolti procederai in sicurezza. In sicurezza sta a significare il modo in cui potrai procedere. Se trovi una frase come la seconda, quella strada sembra sicura, questo non è un complemento di modo. Quella strada sembra sicura, no, per niente, non è neanche un complemento di mezzo. È un complemento predicativo, in questo caso, del soggetto. Perché? Perché la parola sicura serve a completare il significato di questo predicato che altrimenti significherebbe ben poco. Quindi attento, anche in questo caso è vero, bisogna andare con calma, ma se ti poni le domande giuste non commetterai errori. Grazie. Grazie.